Anche quest'oggi l'Udinese si è presentato in campo con una grande voglia di vincere, ha iniziato la partita in modo molto intenso, ha colto una traversa con Pereira, però c'è stato poi un ritorno del Cagliari e la partita nella seconda parte del primo tempo è rimasta equilibrata, però indubbiamente la disposizione dell'Udinese a giocare offensiva, a giocare alto con una difesa molto attenta e molto pronta continua e nonostante in questa gara non abbiamo prodotto molte occasioni da rete, ma molte potenziali occasioni da rete, l'Udinese l'ha vinta meritatamente contro una squadra difficile da affrontare perché se andiamo a vedere i risultati che aveva fatto nel girone di ritorno il Cagliari aveva una media molto interessante e ha vinto come dicevo meritatamente nonostante non abbia avuto molte occasioni da rete, però il gioco si sviluppa con una certa facilità ma soprattutto c'è sincronia nei movimenti difensivi in mezzo al campo e la squadra è quasi sempre compatta e dopo aver colto la traversa all'inizio con Pereira come dicevo un po' non è calata ma io credo che sia cresciuto il Cagliari, il secondo tempo invece è partita sprombattuto, c'è stato il cambio poi l'ingresso di Muri al posto di Zelinski e ovviamente i pensieri sono diventati diciamo un po' catastrofici nella panchina del Cagliari dal momento che Muri al come al solito crea grande scompiglio, ha fatto un bellissimo gol Pereira che ha giocato anche un'ottima partita e ha risolto la sfida e ha fatto ottenere all'Udinese il quarto risultato consecutivo pieno, cosa estremamente interessante perché come tutti sappiamo il successo rinforza il successo e questa squadra ci sembra sia nello spirito che anche nel fisico diciamo nelle gambe molto ben predisposta ed anche sotto l'aspetto della disciplina tattica ha fatto dei passi in avanti su alcuni giocatori ad esempio come Gabriel Silva, Allan che già si ripropone quasi sempre, lo stesso Dusan Bast è tornato in condizione diciamo eccellente, un po' opaco invece il capitano di Natale ma questo può capitare anche se ovviamente crea sempre il panico e la grande attenzione delle difese avversarie, io ritengo che l'Udinese abbia anche dalla sua diciamo un po' di fortuna ma è andata a cercarsela ed è giusto che chi la cerca continuamente sia accompagnato dalla fortuna stessa. È interessante vedere questo finale visto la condizione dell'Udinese così brillante e vedere fino a che punto nella classifica può arrivare questa rimonta che ad un certo momento era un po' insperata, ripeto quello che ho detto prima, noi pensavamo che avrebbe fatto lo stesso una classifica eccellente ma adesso ovviamente sta andando oltre ogni rosa ea previsione. Sono estremamente curioso di vedere come finiranno queste quattro partite e sono molto contento di vedere delle belle partite, giocate bene direi per quasi tutti i 90 minuti ma sappiamo che un certo ritmo non si può mantenere per 90 minuti ma possiamo dire che a livello del calcio italiano attuale l'Udinese sicuramente è una squadra d'élite per il gioco e anche per la classifica.